cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro stancione in occasione di un nuovo tutorial di informatica per farvi vedere come si attualizza un dispositivo android questo pomeriggio anzi questa sera adesso sono le 20 alle 19 sono andato a vedere se c'erano attualizzazioni per il mio nuovo motorola moto it seconda generazione 2014 mi trovo con la sorpresa che mi dice tini la pila cari la batteria carica perché c'è un'attualizzazione disponibile allora io l'ho messo a caricare tra qualche minuto sparo l'attualizzazione ecco qua il mio motorola moto its seconda generazione 2014 come potete vedere sta al 90 per cento che con l'holly pop si riesce a leggere a telefono cellulare spento quanta ricarica quindi aspetterò che arrivi al cento per cento e poi lo attualizzo qua cari amiche ed amici vediamo 97 per cento beh fra poco sarà carico al cento per cento e procederemo all'upgrade ecco qua andiamo ad accendere il motorola moto its seconda generazione 2014 che si avvia perché c'è l'attualizzazione l'ho caricato al 99 per cento non mandava ad aspettare oltre speriamo va di bene ecco qua imposta info sul telefono aggiornamento sistema è disponibile nuovo software del sistema una nuova attualizzazione del software sta disponibile migliorano la stabilità del sistema accetto adesso scenderà file download download un minuto mi manca allora ci vediamo tra un minuto installa aggiornamento di sistema durante l'installazione non potrà effettuare o ricevere chiamate incluse quelle di emergenza tanto io neanche giornata la sim dentro quindi installa subito verrà riavviato tra 5 4 3 2 1 0 spegnimento sto attualizzando il sistema operativo con il sistema hota on the air adesso si riavvia ecco installazione aggiornamento il sistema benvenuto il robotino di android chissà in quanto tempo si aggiorna beh vabbè io adesso siccome sono le 20 35 devo andare a cenare poi ci rivediamo magari ne parli di parliamo domani come è venuto l'attualizzazione io adesso devo andare a mangiare e poi si vedrà ciao magari c'è qua cena per un quarto d'ora una mezz'ora ciao dal vostro sentenza noi ci vediamo in seguito adesso sta facendo l'app grade di android ottimizzazione applicazione 36 di 46 quindi sta ottimizzando le applicazioni perché possano funzionare con marshmallow suppongo questa vi ricordo è una attualizzazione hota cioè realizzata dal cellulare da lollipop a marshmallow dall'ultima versione di lollipop forse alla prima di marshmallow non so con il cellulare motorola moto it seconda generazione del 2014 avvio applicazioni ha perfetto ecco qua andiamo a imposta vediamo info sul telefono che strano è sempre lollipop aggiornamento completato a e si è aggiornato aggiornamento completato completato aggiornamento di moto it alla versione 23 16 2 e quindi si è completato il firma del telefono motorola moto it seconda generazione 2015 io mi credevo che cambiava il sistema operativo invece si è aggiornato il cellulare moto it alla versione 23 16 2 beh questo è tutto non ho cambiato di sistema operativo però ho cambiato l'aggiornamento firma var queste cose qua dopo un altro video vi saprò dire in che è consistito questo aggiornamento forse in qualche applicazione tipo della fotocamera non so beh vabbè vi lascio quindi il vostro sentenza vi lascia un altro tutorial un altro aggiornamento di cellulare arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti